Grazie a tutti. Una serata che riguarda la presentazione di un libro particolare, Negli occhi e nel cuore, in cui vengono raccontate la vicenza della famiglia Gentili e tra i più lani che sono stati testimoni della Shoah. Sono qui presenti i discendenti di quella famiglia, la signora Condostina Gentili, con la figlia Silvia e con il bordo Francesca che si è chiamato, probabilmente. Di questo libro è autore il professor Valerio Marti, che è ormai diventato nostro amico perché naturalmente è la seconda volta che apprezziamo la sua presenza. Il professor Valerio Marti è il professor Valerio Marti, che è stato fatto dal professor Valerio Marti e il suo esagio è il loro curvo di sindaco ebreo. Abbiamo quindi individuato questi due libri per raccontare la ricetta dei libri del tribunale. Il 13, il 18 di settembre del 1931, venne annunciato a Trieste, proprio in piazza di comunità Trieste, vengono annunciate le regi razionali da parte di Venuto Mussolini, in occasione della visita alla città. Fu l'inizio di una serie terribile, orribile di crimini, di cui noi italiani ci siamo anche autoassolti. Ci siamo convinti di essere innocenti. Abbiamo indicato, o forse abbiamo mai voluto sapere, che se la razzia nel ghetto di Roma, di cui vi avete visto proprio poco tempo fa, un bellissimo documentario fatto da Alberto Angela in tv, se fu opera dei tedeschi, però a prendere i ebrei casa per casa a Venezia, nel ghetto, furono i fascisti italiani. Purtroppo la memoria è spesso dolorosa, ma come recita il titolo del libro scritto da Viviana Segre, prafrasando il befardo motto di Auschwitz, La memoria rede liberi. Dobbiamo anche ricordarci che purtroppo l'obbligo colpisce continuamente. E dobbiamo sempre anche ricordarci un'altra cosa, come diceva Indro Montanelli, che un popolo che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio presente. Io grittengo quindi di avere sufficientemente introdotto questo quadro. Ringrazio il professor Valerio Marti, che è docente presso l'Istituto Liceo Scientifico Marinelli, ma è uno storico, è un pubblicista, molti suoi articoli li avrete sentato apprezzati sul Messaggero Veneto, di cui scrive continuamente. Ringrazio per esempio la dottoressa Alessandra Cersava, della casa editrice Tappalù, che è editrice di questo libro Marti e di altri libri del professor Valerio Marti, che sono poi a disposizione, se qualcuno vuole acquistare, sono nel banchetto d'entrata. E ringrazio anche la signora Alessandra Fergolese e la mia amica di Michela Marti, che poi ci leggeranno alcuni brani contenuti nel libro. Io vi ringrazio di nuovo per la vostra partecipazione, e naturalmente ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha permesso di realizzare anche questa serata e invito l'assessore alla cultura Ornella Comuto per un breve indirizzo di salute. Buonasera a tutti voi, benvenuti, un benvenuto al professor Marchi, da professoressa Kersevan, a tutti i nostri ospiti, e un grazie di cuore allo circolso settore per aver organizzato questa serata. Come ha detto giustamente il presidente Urbano, è fondamentale ricordare. A proposito di Liliana Segre, a proposito dell'indifferenza, voglio portarvi una testimonianza. Recentemente siamo andati, con tutte le terze della nostra scuola media, siamo andati a Milano, e siamo andati a visitare il binario 21, che è questo museo della Shoah, che è stato voluto proprio da Liliana Segre, che è diventata, come sapete, senatore a vita, è stata nominata senatore a vita, e lei ha voluto questo museo, praticamente si trova sotto la stazione centrale, ed è il binario da dove partivano di nascosto, diciamo, gli ebrei che venivano deportati ad Auschwitz, ad Acao, eccetera. Ed entrando in questo museo, c'è un grande muro, e con scritto in grande indifferenza. Ecco, devo dirvi che i ragazzi delle nostre terze, sono stati colpiti moltissimo da questo muro, da questo museo, e hanno capito anche cosa significa indifferenza. Adesso, dopo tornati a scuola, chiaramente abbiamo cercato di attualizzare e di rendere molto comprensibile anche a loro questo problema dell'indifferenza. In effetti, tanti milanesi sentivano le urla di questi ebrei, che su questi vagoni che erano completamente chiusi, venivano deportati, però purtroppo nessuno ha voluto o ha potuto fare qualcosa. E così c'è il rischio che, anche al giorno d'oggi, in tante situazioni l'indifferenza diventi veramente una colpa. Io penso che la storia di questa famiglia che il professor Marchi ha scritto, riportando in questo testo, ci porterà a conoscere, a rivivere delle tematiche che, come questa dell'indifferenza, e come tante altre, che riguardano il razzismo, che riguardano le discriminazioni delle persone, sono tematiche di estrema attualità. Per cui, grazie al professor Marchi, che ha scritto questo libro, e grazie a tutti voi che siete qua questa sera, perché essere qui è un modo per testimoniare che queste tematiche sono di grande attualità e sono importanti per tutti noi. Quindi, grazie e buona serata e buon assolto. Il libro che pubblichiamo oggi, come è stato ricordato, è stato presentato per la prima volta proprio nel gennaio di quest'anno. Se non c'è la memoria, si rischia di commettere gli stessi errori, ma qualche volta si rischia di commetterli lo stesso, perché? Perché magari cambia semplicemente uno dei termini della questione e non la si riconosce più. Gli ebrei nel Novecento sono stati perseguitati in maniera violentissima, non solo dai razzisti e dai fascisti, ma hanno visto anche la persecuzione precedente da parte della Chiesa Cattolica, per esempio. Oggi, naturalmente, l'antisemitismo esiste, viene praticato o espresso in maniera meno evidente, meno violenta, anche perché c'è un controllo sociale e culturale da parte dei giornali, anche delle autorità, quindi attraverso questi libri Valerio Marchi è riuscito a delineare la storia di molte famiglie, di molti personaggi di origine ebraica che hanno vissuto o che hanno operato nella nostra regione. Da tutte queste storie viene fuori l'importanza sociale, culturale e politica che la comunità ebraica ha avuto nella nostra regione. Una comunità ebraica che era molto più numerosa di quella attuale. Io adesso do la parola al professor Marchi. In questo, adesso non per fare le solite scene che ci fanno l'incontro, ma ringrazio veramente il cuore da KV, perché ha avuto il coraggio anche di pubblicare dei libri, come fa, sapronde, per altri argomenti anche, non sempre comodi, non sempre politica di corretto, come sono dirsi. Ricordo che quando andai a presentare il mio progetto di ricerca all'Università di Udine e all'Università di Dottorato di Ricerca c'erano forti perplessità, che poi, va detto onestamente, furono vinte anche da qualcuno, ovviamente all'Università. Ma c'erano forti perplessità dovute soprattutto al fatto che si riteneva improbabile che in Friuli ci potesse essere stata qualche forma di antisemitismo o, come si dice, anti-giudaismo, cioè di matrice più teologica, anche se poi i confini sono sempre molto labili, perché tra l'altro è un recente teologico, sconfina nel sociale, sconfina nello pseudo-scientifico, nello raziale, razziste, eccetera. E se diceva, ma cosa vuoi, Friuli non ci sarà, non chissà che caso, e forse sono anche poi diversi libri nei quali abbiamo dimostrato non che qua siamo più capiti, più buoni che d'altra parte, ma che avveniva più o meno qua, quello che avveniva altrove. Poi qua, essendo zona di confini e confini, c'erano anche delle interazioni abbastanza importanti. Prima Rosanna citava Gorizia, e in Gorizia c'era una comunità ebraica fiorente, oggi ci sono veramente ridotti a pochi numeri, a pochi passi, ma c'è una bellissima sinagoga, peraltro attiva, perché i pochi che ci sono si dedicano molto a studi, di attività, concerti, eccetera, e lì la comunità è stata letteralmente sterminata, isintegrata, dalle leggi naziali che hanno fatto scappare molta gente, e poi dalle persecuzioni che hanno fatto a voi, quasi tutti quelli che non erano usciti a scappare. Udine è un caso un po' diverso, ma qua non c'era una vera e propria comunità israelitica regalmente stabilita, anche se in certi momenti, fino a 100 in particolare, ci sono arrivate ad avere fino a 110, 120 presenze ebraiche in città, solo Udine, più tante altre sparse nei vari paesi e paesini. Questa storia, per esempio, in questo libro, comincia da San Daniele del Friuli, dove c'è stata storicamente per lungo tempo una importante comunità ebraica, e giunsero dei primissimi gentili, lì che pian piano vedono una discendenza che dura tutt'ora, e ci unirono ad altre famiglie lì presenti, per cui anche in Guzzato, ma non so, ci sono anche con altri nomi, anche lì la comunità, non c'è davvero un centinaio di membri in un paesino come era all'epoca San Daniele. Quindi presenze significative. Ovviamente le persecuzioni ci sono state anche qua, numericamente inferiori sui posti, si ricordava Trieste, Trieste, c'erano delle proprie peccatone, ma ci sono state, e c'è stata una preparazione, abbiamo citato l'antisemitismo cattolico, che non era certo l'unico, è se è chiaro, ne sono occupato perché, teniamo giusto sottolineare un po' tutti gli aspetti, in questo libro si sottolineano molti aspetti di segno diverso, cioè esponenti cattolici che con grande coraggio e con grande anche sprezzo del pericolo, alcuni sono stati dichiarati giusti dalle nazioni, hanno rischiato la loro vita per salvare gli ebrei, quindi qua non è questione di, non sono più cattolici, non importa che in altri territori d'Europa, con i protestanti o con altri. E bisogna vedere che in Europa c'era una larga e fitta rete di antisemitismo che andava dall'antisemitismo di persone e gruppi che non avevano niente a che fare con la religione, su delle basi pseudo-semitiche, appunto sociali, politiche, eccetera, ma anche un antisemitismo di parte cristiana, diciamo così, in senso lato, in senso più anche, forse cattolico come stante. E qua, nei nostri territori, anche qui c'è stata una preparazione, non alla strage, perché, tra l'altro, non c'entra nessuno inneggiava le strade degli ebrei o poteva prevedere anche minimamente i 6 milioni di morte dell'orcastro. Però una preparazione fatta di idee, di pregiudizi, di sentimenti diffusi, di propagande negative, creare solo un terreno di cultura favorevole, purtroppo, a ciò che non era inevitabile che accadesse. La sua, che purtroppo è potuto accadere perché la nostra bella e cara, in tanti aspetti, progredita e civile, Europa, aveva dentro di sé questi germi, questi presupposti, c'è poco da fare. L'Europa ha una storia di intolleranza e di razzismo fortissimo. Quello che noi abbiamo scoperto adesso, negli ultimi decenni, la libertà, la tolleranza, tutte le storie, ora oggi, peraltro, messe in discussioni, da, come stavamo ricordando, da non poche cose, ma sicuramente un ambiente molto diverso dal passato, sono scoperte recenti. Io questo, l'ho dovuto scoprire anche per me, che sono nato nel 1960, quindi conosciuto un certo mondo, cerco di comunicarlo agli studenti, che nascono in un mondo ancora completamente diverso, era geologico, non mio, dal punto di vista della velocità, delle idee, ma chi è ristruto solo qualche decennio prima, sa di che cosa sto parlando, o avrà sentito i racconti dei suoi genitori, dei suoi nonni. Veniamo a questo libro, che si inserisce in una catena, un libro, questa storia, perché adesso stiamo a presentare un libro, ma più che altro stiamo a presentare una storia, delle vicende, di persone, di famiglie, e la famiglia gentiliche è un caso fra i vari, o di famiglie, di persone, che possiamo studiare, che abbiamo studiato. Io qua rinuncio a priori all'idea di entrare nel dedalo delle parentelle, come in tutte le famiglie, man mano che uno legge, però, sicuramente entra nell'argomento, entra nella famiglia in qualche modo, in queste discendenze, e trova tantissimi nomi, perché veramente noi parliamo dei gentili, che stasera abbiamo fra noi un vertina, e ce la dobbiamo tenere veramente chiara, non solo come persona in sé, ma come testimonianza storica. Abbiamo ricordato l'importanza di avere una memoria storica, quella bella frase di Montanelli, che poi in qualche caso Montanelli si è scordato, ma nessuno è perfetto, va bene, però la frase è giustissima. E una memoria storica di rete, nella quale io ho usufruito, ovviamente, adesso ho usufruito un brutto verbo, forse non mi capite bene, instaurando un rapporto anche di amicizia, di affetto, ovviamente, con lei, con la sua famiglia, e poter sentire raccontare dalla viva voce dei protagonisti ciò che è successo all'epoca e avere poi veramente in mano molti documenti dell'epoca, per questo è un privilegio che non si avrà ancora per molto tempo. Si deve cogliere, poi vedremo proprio un membro della famiglia Gentilite in avanzata età, dopo aver, così, essere stato un po' restivo a parlare, a raccontare, ha deciso che era importantissimo raccontare, si avvicinavano a Tanni, ha detto è ora che raccontiamo e noi dobbiamo ringraziarvi per avere la forza di raccontare, la forza di narrare, la voglia di trasmettere qualche cosa, vedremo come Umbertina c'è riuscita con la sua discendenza e i suoi nipoti, le sue nipoti in una lettura finale. Nel libro, se avrete la pazienza, la voglia di leggerlo, troverete poi tanti nomi perché sono tutti nomi collegati ai gentili è inutile spiegare che poi fanno una gentili si sposava con qualcuno, prendeva il nome di quel qualcuno e quindi la famiglia si ramificava e prendeva anche altri nomi ma sono tutti collegati come parenti alle gentili. Per cui in questo libro voi troverete tantissime storie intrecciate, come vedete non è un libro di enormi dimensioni eppure ci sono dentro e io me lo stavo ricordando prima di venire il quarto che intanto voglio ripassarsi anche per i pochi libri se no ci si dimentica, me lo stavo ricordando di sfogliare e dicevo quante storie ci sono qua dentro veramente se ogni tanto si prova a leggere con gli occhi di un estraneo che dopo qualche mese che non si guarda e non si riesce a farlo e ci si rende conto meglio di alcune cose quanti intrecci, quante vicende, quante persone di tutte le età, di tutti i luoghi perché poi le ramificazioni vanno in tutto il mondo qui partirete da San Danilo dei Friuli ma arriverete in Australia per dire negli Stati Uniti in tante parti in Israele ovviamente in molte parti del mondo e troverete nomi come Granati Borghello tra l'altro che stasera abbiamo Gian Paolo Borghello professore del noto credo a tutti e anche lui parte della famiglia Gentile anche lui fa parte di questo grande quadro e la sua famiglia ha vissuto queste cose il suo papà le ha vissute in prima persona Rindo Borghello Campos Coen Dinola Dallatorre Eferma Fubini Mentes Mandino Morpurgo Pucci Riker Sax e via dicendo tutti intrecci con la famiglia Gentile quindi tutte storie raccontate alcune brevemente alcune un po' più a lungo alcune molto ramificate alcune meno che si intrecciano per ecco che modo tutte storie a buon fine a lieto fine un perfino oggi qui tra noi perché fa parte della categoria a lieto fine per lei personalmente ma non a lieto fine per tanti dei suoi cari che purtroppo hanno fatto una hanno avuto una vicenda molto più traumatica e di me si sono finiti nei campi di Stavino e lì sono emati e con gli accidenti le casualità le provvidenze non lo sappiamo della vita ma dicendo in questo libro si raccontano anche tante belle storie di salvataggio per le storie di solidarietà ci possono essere istituzioni che sbagliano e creano degli ambienti spavorevolissimi o favorevolissimi poi al giudizio e al razzismo ma ci possono poi sempre gli uomini le persone che possono fare le loro scelte che anche se inseriti in un sistema ideologico religioso politico pseudo scientifico quant'altro poi si trovano di fronte a tu per tu con qualcuno e lì devono decidere che cosa fare se comportarsi da uomini nel senso da esseri umani oppure se seguire in modo passivo indifferente come si diceva quant'altro delle istruzioni che hanno avuto o semplicemente un clima che stanno vivendo per cominciare chiedo a Alessandra pergolese di avvicinarsi alla prima lettura vorrei che si leggesse questa è una lettura tratta dal dottavo capitolo del libro una testimonianza lasciata da una discendente della famiglia Gentili che è Serena Mendes tuttora vivente Zoppola la quale nel 2009 aveva lasciato un discorso alle ragazze delle scuole mediche quindi dei ragazzini di Martignacco e aveva voluto cercare di comunicare così che cos'era stata la sua esperienza quella della sua famiglia facciamo parlare allora la voce dei protagonisti o dei discendenti dei protagonisti pensate a cui siete molto legati il fratello del papà o della mamma con cui vi intendete bene perché è giovane poco più grande di voi ecco io quello zio non l'ho mai avuto non l'ho mai conosciuto a soli vent'anni è stato strappato dalla sua casa di Roma all'alba del 16 ottobre del 1943 e non è più tornato non si è mai saputo dove quando e perché è morto anzi solo il perché si è saputo perché era ebreo cioè chi è un ebreo è una persona come un'altra solo solo che professa una religione diversa uno è cattolico uno è protestante uno è musulmano uno è ebreo dipende da dove si è nato dalla storia della propria famiglia da quel 16 ottobre io non ho più avuto zii nonni pareti un passo indietro nel tempo cinque anni prima del 1943 esattamente nel 1938 erano state promulgate le leggi razziali che cosa sono in pratica sono leggi che hanno decretato l'espulsione di ogni ebreo da ogni attività pubblica un esempio concreto mio padre voleva diventare ufficiale voleva servire la sua patria aveva frequentato l'accademia a Modena e poi aveva intrapreso la carriera militare ma nel 1938 proprio a causa delle leggi razziali fu cacciato dall'esercito e dovette rinunciare per sempre al suo sogno di ufficiale altro esempio concreto mia madre mia madre aveva frequentato l'istituto Zanoma Udidi e si era diplomata in ragioneria con ottimi voti era stata subito assunta a lavorare negli uffici della previdenza sociale appena iniziata si concluse bruscamente nel 1938 sempre a causa delle leggi razziali questo succedeva nel mondo degli adulti e i bambini quelli non hanno più potuto frequentare la scuola pubblica che fortuna direte voi ma quando l'allontanamento dura per interi anni il problema diventa serio non più a scuola non più all'aperto a giocare con i loro amici ma sempre rinchiusi nelle loro case e spesso nascosti per non essere scoperti o deportati in Germania o in Polonia a morire nei campi di sterminio perché questo è stato il destino di 6 milioni di ebrei abbiamo detto di fare un po' di dialogo ecco questa questa lettura veramente su che la figlia è bruna gentile che la sorella è piccola per chiarire ci dà l'idea di cosa abbiano rappresentato le leggi razziali in Italia perché è un'idea abbastanza diffusa forse quest'anno a causa dell'ottantesimo anniversario se ne è parlato di più c'è stata la trasmissione che si è ricordata di Alberto Angela poi articoli sui sui però in Italia in generale nei decenni passati non si è avuta la consapevolezza di ciò che le leggi razziali fasciste avessero rappresentato per gli ebrei italiani di l'anima di l'anima Grazie a tutti. Grazie, è importante questo perché più o meno se ne è sempre parlato di queste leggi nazionali, però poi la domanda può essere quanti hanno mai letto i testi delle leggi? E noi diciamo sempre cattivo tedesco buon italiano, no? Più o meno. Leggetti i testi delle leggi razziali o razziste che gli si voglia gli italiani, che in alcuni punti prevedevano delle conseguenze anche peggiori. Poi si dice, però poi quelli lì non li hanno sempre attuati. Perché noi siamo fatti anche così? Per fortuna in questi casi facciamo la legge e poi magari non sempre si attuano, ma l'hanno attuato e come? Comunque, i nazisti magari erano molto più precisi. Qualcosa sfuggiva perché c'era proprio di buon italiano che arriva a cuore, si hanno raccontato anche storia così, di qualcuno che è andato lì a catturare, si è intenerito e ha fatto finta di non vedere. Ma non è che non potesse capitare mai neanche il tedesco, ma si è capitato anche il tedesco, ma le leggi sono state leggi durissime. Prima la persecuzione dei diritti che preludeva la persecuzione delle vite. E come si ricordava prima, fatte anche dagli italiani. Queste persecuzioni, le delazioni, le catture. Il sindaco Eio Morpurgo fu scovato all'ospedale, la sera rifugiato, per curarsi e per proteggersi, a causa di un delatore che non si è mai scoperto chi sia stato qua, nostro, italiano, di queste parti. Questi sono casi a Trieste, ce ne sono stati tantissimi. Ecco, tu dicevi, forse non sapevano neanche bene chi erano alcuni ebrei, erano molto osservanti, molto consapevoli. Non so chi è ebrei, no? Ecco, negli stereotipi anti-ebraici c'è sempre la figura, tu lo sai perché hai letto, ti sei dovuto aver sapere nei miei libri, l'ebreo, no? L'ebreo. Questa figura è quasi metafisica, no? L'ebreo. Ma chi è l'ebreo? L'italiano. Ma chi è l'italiano? Quello di Vercelli o quello di Serafusa? Tanto per dire, no? Chi è l'italiano? Ecco, l'ebreo. Gli ebrei sono di tutto e di più, come tutti i popoli. Fra l'altro gli ebrei in Italia. Questi italiani sono prima di tutto italiani. Ecco, non scordiamoci mai anche questo. Queste sono cose fatte da cittadini italiani, perché ebrei, certo, ma cittadini italiani, che anche cittadini stranieri che hanno l'Italia. E dall'Italia sono stati deportati, con i volontarosi, i carnetici di Hitler, si dice in giornale, i volontarosi qua anche in Italia, 8.000 ebrei. In Italia ce n'erano circa 40.000. Molti non sono deportati perché sono fuggiti, sono riusciti a sfuggire alle catture. Ecco, questo è accaduto in Italia ed è bene che quest'anno le ricorrenze serviranno, sicuro che serviranno le praticate, però almeno ci si ferma a riflettere, a vedere, a studiare un po' meglio le cose, che non è che non si sono state studiate, ma più delle volte le ha detti ai lavori. Manca poi la comunicazione all'argo, manca. Non è facile la comunicazione all'argo pubblico, che è giusto cercare di fare come tanti studiatori stanno facendo. Ecco, a proposito di quello che dicevi, no? C'erano dei preti che non sapevano bene di essere dei preti che lo significasse, no? La testimonianza di Giorgio Granati, che dopo riprenderemo, che è un discendente sempre dei gentili, che dice, con le leggi raziali smisi di sentirmi italiani, però non sapeva ancora che cosa io fossi. Mi faceva parte della famiglia molto laica, diciamo, molto poco osservante, no? Alcuni si trovavano, altri nello, però è cresciuto una mentalità piuttosto laica, diciamo, no? E dice, non sapeva niente bene. E poi dice la mamma, mamma, tu ci hai insegnato a lavare la patria, ma la patria non ci vuole più. Il disorientamento, lui era un ragazzino, pensate a questo ragazzino, c'è una bella foto nel mio libro, qui va qua, pagina 93, che mi è stata data da Giorgio Granati, che all'epoca viveva a Firenze, non vi spiego perché, ma vengono tutti da San Daniele, viveva a Firenze, e lui era in una classe, aveva 11 anni all'epoca, 11 anni nella sua classe, ci sono andati in quelle classi, in quella scuola, a prendere i ragazzini, a scegliere i ragazzini, non dico selezionare, che in questo caso sarebbe brutto, a scegliere i ragazzini che potevano, così, in camminare, per presentare la cura razza italiana, perché belli, ai tanti, alti, no? Con un volto, così, adatto alla Mussolini per lui, era in effetti, perché adesso è a otto e dopo, nello 90 anni, bisogna 90 anni, e altro ancora, nello 90, capite? Da 11 anni era già un bel ragazzone. E l'hanno preso e l'hanno messo su, in piazza, su un pasto, no? Vestito da giovane balina, no? Lì, questo tipico esponente, non sapevano che era vero. E guardando il fisico avevano capito che era un tipo italiano. Ovviamente, hanno dovuto cominciare a fuggire da lì a poco, no? E questo per dire anche la stupidaggine degli uomini, questo come in tanti altri casi, purtroppo. E a proposito di ebrei che cercavano la loro identità, e la loro dimensione, anche lavorativa, umana, professionale, adesso leggeremo tra poco una parte del libro che parla di Joseph Gentilli. Qua vedete la famiglia Gentilli a inizio Novecento. Da questa famiglia, sono discesi tanti altri Gentilli, uno fu Giuseppe, che poi andò vivendo in Australia, scappando proprio dal fascismo, diventando lì un importantissimo professore di fama mondiale, sociografo, climatologo e quant'altro, che è una gloria del Friuli, come ogni tanto capita, a volte più conosciuto fuori del Friuli che il Friuli, ma nemo, profeta in patria, diceva quello, qua è conosciuto ma non proprio da tutti, all'estero è molto più noto, e qua hanno avuto tutto un suo percorso di fuga, l'hanno capito fin da prima, i ebrei capivano prima dove conduceva il fascismo, e altri no, altri rimangono sorpresi, spiazzati, c'erano tutte le reazioni, lui lo capisce per tempo, poi era uno che si opponeva, uno che diceva di no, uno che ne andava per cose, e a un certo punto se ne deve andare. Leggiamo un brano dal libro che ci racconta proprio dell'esilio, diciamo, dell'auto esilio di questo importante personaggio, importante esponente della famiglia, e che poi dovrà una carriera luminosa che ancora oggi, per chi è che la non viene ricordata. Joseph conobbe bene quello che definì il volto brutale del fascismo a Gorizia, dove assistette ai ignobili atti di violenza di certi squadristi che assecondati dalla polizia sfasciarono la sede di un'organizzazione parrocchiale e editrice di un proprio giornale in lingua slovena. Condannai del regine per sempre, scriverà Joseph, revocando quell'episodio e definendo gli sviluppi razzisti e bellici del fascismo la frana e l'abisso. La suddetta sede parrocchiale era peraltro ubicata nel condominio in cui viveva sua zia, Angelina Gentili, che gestiva una ben avviata in aceria. La povera Angelina morì nel 1940 di crepacuore quando le fu imposto un direttore a Riano. Alla fine del 1943, poi il suo marito, Giovanni Felberbaum, di origini polacche, fu deportato a Rauschwitz, da dove non fece mai ritorno. i due non avevano figli. Nel 1938 Joseph prese la decisione di emigrare a causa delle leggi altebraiche, del clima generale che si stava creando e degli attacchi ideologici portati dai fascisti. il suo stato d'anno era questo. Mi sentivo intrappolato in un'Europa che stava per esplodere da un momento all'altro e dalla quale non riuscivo a uscire perché nato nel 1912 era ancora soggetto alla leva. Fece richiesta di asilo a Nuova Zelanda, a Canada, a Australia e fu solo quest'ultima a concederglielo a patto che portasse con sé 300 sterline, circa 600 dollari. Il governo italiano, però, non permetteva ai propri cittadini di portare all'estero più di 200 sterline e allora Joseph dovette ricorrere all'aiuto di un frate con cui aveva fatto amicizia durante il viaggio chiedendogli di nascondere la somma mancante sotto la veste talare. Così, imbarcatosi il 20 agosto 1939 da Napoli a Prodò in Australia una dozzina di giorni dopo lo scoppio della guerra. Quindi si stabilì nella vicina aperta dove, fra le altre cose, collaborò alla fondazione del comitato statale dell'organizzazione antifascista Italia Libera di cui divenne anche vicepresidente. Era d'altronde pienamente convinto, scriverà così nelle sue memorie, che la vera guerra da combattere era quella contro il totalitarismo. questo qua è il Joseph da giovane e poi da un po' meno giovane diciamo e qua ho ricordato che sono già a farlo a pochiello che qui sono proprio nella aula della Western Australia University dedicata appunto a oggi a Joseph Gentili e qua sono nel 2014 e ci sono stati tanti protagonisti che se ne ricordiamo solo alcuni e uno è stato Roberto Gentili io ho sentito qualcuno prima che diceva io l'ho conosciuto ho conosciuto Roberto Gentili l'ingegnere Gentili è morto nel luglio del 2015 hanno avuto due anni l'ingegnere Gentili è conosciutissimo qua di Triudi è stato anche un protagonista per le tante cose della ricostruzione dopo il terremoto ecco lui era quello di cui dicevo per tanti anni è stato molto riservato molto restivo a raccontare come tante ebrei e qui si potrebbe parlare perché ma è un po' troppo per le lunghe ma è comprensibilissima la cosa fino a che a un certo punto un giorno ha deciso sentendo che insomma non poteva dire neanche lui in eterno che era il suo dovrebbe scusate morale raccontare e lì ci ha lasciato delle testimonianze veramente belle crude per certi aspetti incoraggianti carabili importanti cioè sono tutte le sue vicende per dire anche quelle più rocambolesche quando si salvocano stendosi da prete tanto per dire no potremmo che si salvano stendosi da prete ci sono anche delle scene da film delle scene da cinema questi racconti che sono bene soprattutto quando poi sappiamo che sono finiti nel gennaio del 2013 qualche tempo dopo le celebrazioni per il giorno della memoria e visto il progressivo assottigliarsi nel numero dei testimoni superstiti decise di inviare una lettera di testimonianza al messaggero veneto di Udine chiedendo per prima cosa di essere consapevole che nessun racconto di anni romanzo potrà sostituire la testimonianza di chi ha vissuto gli anni fra il 1938 e il 1945 per questo motivo arrivato alla soglia dei 90 sentiva il dovere morale di esprimere pubblicamente una profonda gratitudine per chi fra il 1943 e il 1945 svolse un ruolo decisivo nel salvare le vite sua e di altri suoi familiari ebbene affiancando a questa testimonianza un'altra sua apparsa un paio di mesi dopo sul periodico dell'associazione gli stelliniani possiamo ricavare un quadro abbastanza esauriente essere diversi perché ebrei una sensazione improvvisa ed alienante così scrisse Roberto tanti anni dopo è stato già chiarito che tanto nella sua quanto in molte altre famiglie di ebrei italiani la religione era più che una rigida osservanza un insieme di tradizioni e abitudini familiari cui i figli solitamente si adeguavano in quale modo poi tali usanze potessero diventare segno dell'appartenenza una diversa grazia aggiunse era assolutamente incomprensibile per lui e per tanti altri si trattò dunque di un tuffo improvviso in un mondo mai immaginato ma nemmeno ben compreso ricordava bene ad esempio il giorno in cui fu rifiutato il rinnovo della tessera del CAI del quale facevano parte tanti suoi amici e quello in cui a Trieste trovò scritto sulla porta della basilica di San Giusto qui non entrano cani ed ebrei la cronaca è proprio il documento che riguarda Roberto Gentilli che è stato trovato negli archivi del liceo Stellini come vedete viene segnato grazie a Drey che poi potevano fare i gianni da perattisti da noi non potevano più frequentare la scuola questi sono documenti che si trovano nel suo l'opera sono documenti importanti ecco c'è il ricordo dei due uomini sicuramente io ho una delle cose che ho scontrato abbastanza spesso è quella di di come primaveri no? di desiderare questa difficoltà la paura di non essere creduti di raccontare qualcosa che si stenta a credere e quindi di farsi anche una brutta figura addirittura di essere ulteriormente perseguitati la vergogna a volte può sembrare assurdo ma sai anche quello no? soprattutto anche che ho visto le esperienze più umilianti e se non ti deve vergognare tra i due uominiassi quelli che li hanno causati però le umiliazioni sono state talmente forti che spesso ci si perdono a raccontarle poi c'è questa paura di non essere dolore sicuramente c'è la volontà di proteggere che quando il libro emerge in un caso i propri figli per queste memorie per non non far sapere con i figli che cosa è stato del mondo da dove si è venuti come può essere brutta la vita sperando che questo non si ripetta più poi però come nel caso di Roberto è giunto ancora che si dica molte cose ecco sono un tentale sicuramente poi impedendo di interessarti nei microfoniati ecco un berlina si è stata lucidissima desiderosa quando ero consiglio di raccontare non per la spagna di raccontare ovviamente o di mettersi mostra che la persona più riservata forse che io conosca ma per degli altri ovviamente per i propri familiati è giusto che sappiamo una certa storia anche per gli storici anche noi dei corpi degli altri no la parte di patote per gli altri per come se mi lancia a tutti e come dicevi tutto questo avviene in tutti i casi diciamo analoghi in tutti i diversi insomma ci sono delle cose che sono e questa prima frase che ha lasciato Roberto Gentili a Gerusalemme esiste un registro di giusti tra le nazioni lo sapete no gli alberi dei giusti eccetera no e quelli che hanno appunto meschiato la loro vita per salvare quella anche di un solo ebreo pur non essendo loro ebrei no ma dovrebbe essere troppo grande per contenere tutti i nomi di chi come Don Gardumi i suoi confratelli troverete che questo Don Gardumi è uno dei vari esponenti del mondo cattolico vedete qua sono tre che vengono citati Gardumi Friedman e Lino De Marti che era qua a Udine e hanno compiuto un semplice anche se ben pericoloso lato di umanità evangelica ospitare i perseguitati e questo è di un'attualità sconcertante direi no? perché noi adesso stiamo vedendo casi di singoli gruppi di persone in un contesto di un certo tipo non vogliamo appiantire la storia per quello che è stata la Shoah o quello che possono essere cose di oggi di fenomeno che è assolutamente a sé ma credo che anche oggi il dovere di ospitare di perseguitare di ospitare chi fugge da situazioni di invivibilità qualunque si sia non sia da tenere presente soprattutto a partire da chi può decidere fino a tutti i nuovi cittadini e credo che questo sia un'attualità sconcertante e un semplice gesto che evangelicamente anche il mister d'acqua da chi non può fare altro ma qualcosa di più da chi può fare di più ha salvato tanti ebrei il nostro debito di riconoscenza è enorme dice un altro precedente che è un'importante professoressa in Israele adesso ha fatto una bellissima carriera ci ha salvati tutti noi dice no è una persona che aveva salvato ecco queste sono veramente grandi testimonianze come anche ancora quella di Roberto Gentili quella data riguardo da Angelina Peronato che era un attivista diciamo di relazione cattolica e che ha contribuito in modo determinante alla salvezza di Umbertina di Roberto e di altri familiari di altri gentili perché si sono salvati perché alcuni di loro purtroppo sono finiti ad auso e altri sono salvati perché qualcuno li ha salvati è desattamente semplice perché qualcuno li ha salvati e rimane finché salvati allora rimanga un invito un costante profondo vorrei chiedere vita alle sentimento di gravità ecco Roberto Gentili è stato spinto non solo dal desiderio dal senso di dovere morale di raccontare ma anche dal senso di dovere morale di ringraziare che è lo stesso sentimento che ha mosso Umbertina che ha sempre sentito questa volontà di ringraziare appunto che ha cercato di far rientrare anche Angelina Peronato nei giusti prole nazioni ma secondo loro non c'erano abbastanza testimonianze sono molto rigorosi in realtà a mio parere non c'erano nulla non c'erano più che a sufficienza ma vabbè loro hanno i loro criteri le loro cose ma giustamente diceva Roberto Gentili ce ne sono tanti altri che ne rientrano nell'elenco ma non per quello non hanno fatto le stesse cose forse anche di più magari non si conoscono o non c'è la prova provata definitiva come vuol dire eravamo eravamo ebrei che è messo sul di algranati sul come si chiama di distallo a mostra del bibico italiano di razza ariana e che poi è stato perseguitato e dovuto fuggire che fino a farlo è dovuto fuggire in varie parti in Italia in Toscana eccetera poi in Svizzera che ci leggeremo nel episodio della fuga in Svizzera e poi è andato a vivere in Israele in un tibuz e lì è trascorso tutta la sua vita dovevano sterminare lui e la sua famiglia e oggi quest'uomo ha 31 nipoti e 15 bis nipoti alla facciata su un uomo così strisciamo uno dopo l'altro nel buco fangoso era la notte fra il 16 il 17 aprile del 1944 mi entrerlo lì sotto la rete fresco come ero di studi liceali mi venne in mente una citazione del Manzoni e dissi in bormio come Renzo sta lì maledetto paese all'indirizzo dell'Italia cominciamo ad allotanarci dal confine con il fango attaccato alle scarpe i miei compagni si era caricato la nonna sulle spalle ben presto scoprimmo che c'erano dappertutto grandi fosse preparate forse dagli svizzeri contro un'eventuale invasione di cagarmati che la pioggia veramente torrenziale aveva riempito di acqua fangosa io ero ero euforico dissi al gruppetto di aspettare lì sarei andato avanti a cercare la strada evitai le fosse passai sotto i fili di ferro e come nelle favole vidi lontano un lumicino avvicinandomi il buio era profondo vidi una casetta ci girai intorno e mi trovai di colpo di fronte una sentinella col fucile e il caratteristico il metodo dei tedeschi che mi chiese in un tedesco gutturale se ero un profugo per un attimo mi guizzò il pensiero di quei fili di ferro sotto cui ero passato avevo ripassato il confine ma subito dopo vidi brillare su un lato dell'elmento la croce bianca in campo rosso della Svizzera e capii che quel soldato era della Svizzera tedesca allora tirai fuori tutto il mio povero tedesco e gli dissi che sì sì era un profugo e che c'erano anche dei miei amici che non erano lontani lui sfoderò una grossa torcia accesa e rifacemmo la strada che avevo fatto io chiamavo i miei compagni ma loro non rispondevano e a un tratto lo capii mi dovevano aver visto tornare parlando tedesco con un soldato che sembrava proprio tedesco e si erano nascosti tutti in una di quelle fosse con l'acqua ad un belico a quel punto gridai che eravamo in Svizzera che quel soldato era Svizzero e non ti dico che aspetto avevano quei poverini che uscivano uno dopo l'altro dalla forza fangosa siamo perso le parti finali Martina ricorda quando dovrebbe lei lasciare la scuola la promozione di scuola a tutti i bambini con il brendiure bianco nero la mia mamma ha dovuto spiegarmi che per motivi particolari non avrei potuto frequentare una scuola pubblica ci è data subito la parte di procurarmi una maestra si creavano poi nei vari luoghi queste piccole scuolette ebraiche tra i bocchi e anche secondo gli luoghi che c'erano di ebrei dei presenti e queste piccole scuole anche Giorgio Bernardo che io lo frequentò una scuola fra ebrei a Firenze furono anche degli esperimenti didattici notevolissimi fra l'altro ma non ci possiamo dilungare c'era il dolore ogni volta che un compagno lasciava la classe non aveva lasciato la classe anche gli insegnanti peraltro tutti gli anderi della scuola che fossero ebrei e qui c'era anche un ricordo che adesso vorrei leggere è lasciato da Luciano Spiva che era compagno di classe di Erminio Volterra che era un ebreo udinese di una famiglia ebraica abbastanza di Spico qua a Udine e ci ha lasciato questo ricordo di quando suo amico qua a Udine proprio Erminio Volterra ha dovuto lasciare la scuola un ricordo di un adulto ma che ricorda molto bene i sentimenti che ha provato quando era un amico mi rammento che il giorno in cui lasciò la classe che angeva a dirotto perché non voleva abbandonare la scuola e noi compagni la sua figura in lacrime è un'immagine che mi stringe il cuore ancora oggi come allora gli eravamo affezionati infatti quando sapemmo che sarebbe stato espulso noi bambini e il nostro maestro rimanemmo profondamente scossi e spagioli nessuno di noi lo aveva mai trattato diversamente perché era ebreo ricordo che quando partì non ci fu un solo bimbo che non scoppiò a piangere la Angelina Peronato e la volontà di ringraziare le persone che hanno offerto la loro disponibilità con la quale si rischiava la vita e questo brano di Umbertina racchiuda tutto la granditudine tutto quello che si possa dire nel momento in cui è stata intitolata una scuola in Vicentino la Angelina Peronato che ha avuto tantissimi altri conoscimenti tra l'altro Umbertina ha scritto il suo ricordo le sue sensazioni le sue emozioni che poi in un'occasione sono spalle l'ha fatto leggere la figlia Silvia ed era stato detto questo con cui è stata intitolata questa scuola oggi si rende onore a una donna eccezionale la professoressa Angelina Peronato credo che qui tutti sappiano chi sia stata e come abbia speso la sua vita ma io penso di poter aggiungere qualcosa in qualità di testimone Angelina nei lontani anni quaranta gli anni bui della guerra e delle persecuzioni razziane si comportò eroicamente per dare aiuto a me e ai miei familiari eravamo ebrei udinesi per lei degli sconosciuti soli impauriti braccati dai nadi fascisti ci aveva affidato a lei al suo cuore e al suo coraggio la signora Maria Frizziero Quattrini amica della mia famiglia Angelina Peronato ci accorse ci donò il suo calore umano con la sua intraprendenza ci aiutò materialmente in ogni modo possibile dai documenti alla casa ci prese per mano ci accompagnò fino al giorno della liberazione e tutti ci salvamo i miei genitori il mio cognato mia sorella la mia nipotina di 14 mesi ed io ma proprio io ebbi qualcosa in più ebbi la fortuna immensa di averla anche come impareggiabile insegnante io che nel 1938 ero stata espulsa dalla scuola potei frequentare sotto falso nome la terza media ci diede tanto a me diede tutto oggi posso solo dirle con animo grato commosso grazie professoressa grazie ricordi tristi di chi invece non ha avuto qualcuno se lo potesse salvare Maria Gentili discendente dei Gentili di San Marele con Giuseppe che abbiamo visto all'inizio in quella foto in ottocento sono marito editorio molturgo che era dispato era figliatina tantissima della sua pensate che questo ritratto di Maria l'ha fatto sua sorella una sua sorella divina ancora dedicata a una monografia e questa ragazzina ritraeva così la sorella ricordo che ci resta il legno e i nomi di chi non si si leggono i nomi quando qualcuno scompare perché il nome rimanga soprattutto quando viene inghiottito da questi avvisi la nostra storia ecco questi sono alcuni dei nomi che troverete nel libro di coloro che invece non ce l'hanno fatta sono stati sommersi da questa catastrofe nomi di quali però c'è un po' di storia per qualcuno di più per qualcuno di meno c'è una memoria c'è un ricordo e ci sono coloro che ce l'hanno fatta ancora a ricordare e a farci ricordare ognuno ha il suo nome ognuno ha la sua storia ogni uomo ha il nome e va ricordato non c'è mai massa degli uomini ci sono gli individui e ogni uomo va ricordato e pensate che pochi anni dopo la Shoah qua all'Italia c'era ancora gente che scriveva su riviste come epoca cose orribili contro gli ebrei gente che si vantava di essere di professione antisemita di inneggiare a Hitler e a Mussolini e Nino Gentilli questa unità stimatissima a Udi di Triuli papà di un Delfina prese un giorno carta e penna e si ribellò a questo scrivendo protestando semplicamente eravamo negli anni 50 stavamo andando sulla fine degli anni 50 ancora c'era qualcuno che insultava e desiderava di compiere fino in fondo lavoro cominciando dai nazisti e dai fascisti quelle tante cose disse io che fra parenti stretti e strettissimi ho avuto ben 12 persone assassinate dai nazi fascisti io che per 20 lunghi mesi con la mia famiglia ho vagato per la penisola per accato con un delinquente con una condanna a morte sulle spalle che ho avuto la casa certeggiata e tutte le altre cose che potrete raccontare per decenni gli spostamenti le fughe i momenti di perrore i viaggi più impensabili e improvabili le cose locambolesche fatti più drammatici e quelli providenziali e ci sono le cose che dobbiamo ricordare oggi si dice in genere oggi lo fanno molte pietre di inciampo sparse ormai numerosissime in tutta Europa queste sono quelle dei Mendes a Roma sempre parenti dei gentili arrestati riportati vedete la data di fatidico 16 ottobre 1943 non sono programmi televisivi sono realtà questa è la famiglia di un figlio di un'altra sorella di Umbertina bianca di Yair Feldman che oggi vive in Israele ed è stato il primo un giorno quando ero andato in Israele a presentare un altro libro con il dottor Sachs l'ho conosciuto di Harry Feldman discendente dei gentili e mi aveva detto tu un giorno scriverai un libro sui gentili mi aveva detto no guarda non ce la faccio assolutamente ne ho già tre in programma non ce la posso fare tu lo scriverai e ho ragione ecco alla fine mi sono sentito volamente costretto in senso buono e felice di farlo questi ti ricordate Giorgio Granati quello che scappava in Svizzera eccolo qua con sua sorella lì giovane e qua meno giovane anche lei sono ancora belli azili in Israele e questa qua è la famiglia di Marina Cursi di Enzer che lo si è dato prima anche lei come vedete insomma che lì si sono andati da fare le cose siano andate avanti con un certo successo diciamo no ci sono i fubini di Torino che loro anche in questo sono incredibili gente espertissima nel far fuggire gli altri nel creare documenti falsi e quando ci si deve arrangiare ci si deve arrangiare ovviamente e poi i componenti della famiglia più stretta qua dei gentili di oggi una bella foto recente e terminiamo leggendo qualcosa che è stato scoperto da una ragazza una ragazzina un paio di anni fa Emma il poter di un gampino che frequentava adesso la università è pronta a Ferdinando Stellini con mia figlia Mitela e un giorno in occasione del giornale memoria ha voluto indirizzare una lettera pubblica diciamo così per una lettera pubblica a sue nomi e allora ho detto cosa di meglio se non andava a leggere a una ragazzina più o meno della sua età che frequenta la stessa scuola ma che ha avuto una storia molto diversa affinché si compendi in questa storia e ringrazio comunque la vita sui esimitori sui nonni e tutti quanti oggi gli danno la possibilità di vivere una vita serena e tranquilla come speriamo che i nostri figli e i figli e i nostri figli possano continuare a fare perché le cose che sono state in altra forma potrebbero tornare sta a loro anche fare in modo che non sia così allora chiedermi di leggere questa bellissima lettera che Emma scrisse la sua nonna ma che vuole divulgare pubblicamente la storia studiata a scuola sembra così distante quasi irreale una famola che citiamo a memoria davanti ai professori magari menzionando qualche dato per apparire ai loro occhi più preparati come gli ebrei sterminati furono più di sei milioni con quanta superficialità con quanto distacco motivo pronunciamo queste parole noi non sappiamo cosa significa non siamo in grado di cogliere la smisurata sofferenza che si ce la dietro ha visto sei milioni di vittime sono troppe per figurarceli è un numero al di sopra della portata della nostra immaginazione ma io non mi farò regalare da un libro di storia freddo e distaccato perché la vera storia non è scritta lì letteralmente appiattita spogliata sepolta schiacciata tra mille altri eventi edate la vera storia è scritta o meglio impressa indelebilmente negli occhi e nel cuore di mia nonna io mi sento in dovere di dare un senso agli errori che quegli occhi hanno visto e alle sofferenze che quel cuore ha provato in che modo comincerò con il non dimenticare io mi immagino l'olocausto come una ferita profonda e inguaribile una ferita che non si cicatrizzerà mai lo tutto una ferita che mia nonna arriccherà per sempre con sé nel suo cuore che io conserverò nel mio e che tutta l'umanità dovrebbe portarsi appresso come triste e riducale un passato che ci fa tanto vergognare segno indelebile di un pezzo di storia che brucia e che ci trascineremo dietro come un peso e come una colpa comune che possiamo espiare solo ricordando e ricordando ancora possiamo sì cercare di seppellire sotto un mucchio di distrazioni questo terribile dolore ma esso ritornerà incessante per ricordarci di cosa è stato capace l'uomo è proprio quello che meritiamo e ci giusto stimolo a non dimenticare mai cara nonna non scorderò mai per aver resistito e avermi donato in questo modo la vita tu mi lasci inere trasforma perché inevitabilmente si tramuta in doloroso senso di colpa sono troppo fortunata non mi merito l'agio la spazieratezza in mezzo al quale vivo poi mi ricordo che tu con la tua sofferenza mi li hai garantiti mi hai donato la pace e l'orgoglio la pace di un mondo più buono e l'orgoglio di avere una nonna come te grazie a chi ci ha condotto fino a 4 la sua lista la sua memoria e chi ha voluto questa sera organizzare questo incontro mi chiede un po' connessione e io dico che se non ci consegniamo in questo modo non lo diamo grazie se mi concesso dire due parole da aggiungere a quelle che sono state dette per ricordare che c'è un riconoscimento dei primi dei a Giorgio sentiti perché dalla lontana Australia lui non ha dimenticato i primi e ha mantenuto dei rapporti con i primi l'anno scorso sono stati celebrati 40 anni dell'istituzione dell'università di triuli 15.000 studenti 50.000 laureati e il più intero hanno un debito di riconoscenza nei confronti del professor Gentili Joseph che è stato il primo a parlare pubblicamente della necessità di triuli di dotarsi di una università da professore emigrato ha scritto di questo ancora negli anni 50 e il suo testimone è stato raccolto da un altro professore a suo tempo emigrato che era il professor Petracco che insieme a tanti altri ha poi raccolto le famose firme che hanno costretto il governo subito dopo il terremoto del 76 a concedere a triuli l'università penso che sia giusto in questa sede ricordare questo tributo di riconoscenza che il friuli deve a questa famiglia e a questo particolare personaggio che nemmeno il professor Detoni che ha celebrato appunto il quarantennale dell'università conosceva e si è sorpreso quando tenero parlato la ringrazio anche all'inizio di riconoscenza che ci sono tantissime storie infatti c'è anche questa che ha fatto benissimo ricordare come questa che lei ha ricordato ricordato ce ne sono molte altre che come ciò ricordiamo bisogna ricordare quinto i uni a volte pensando di vostro bene che qua e quindi questa come altre le trovate in queste vicende e credo che abbiamo dovere anche come cristiani in questo luogo qui in cui ricordiamo tante cose per essere buone eccetera spesso siamo un po' cristiani eccetera eccetera di mantenere vivo il ricordo delle persone che hanno fatto bene delle persone che hanno fatto del male di tirare le sonne un po' di tutto questo e delle persone che si sono poi sempre venute attaccate da loro che era molto bene anche se non erano fattolici cristiani quello che era ma erano le vere erano cittadini italiani che amavano la loro festa come ciò per tutti per ringraziare innanzitutto voi e ringraziare chi ha partecipato e vorrei venne di tutto ringraziare la signora grazie 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 grazie